Gli spostamenti hanno tratto origine dal fatto che per una serie di motivi, tra i quali il rifacimento del parcheggio, la sistemazione della viabilità, ha fatto sì che il mercato dovesse essere trasportato e questo ha consentito nel tempo anche di verificare quale potrebbe essere stata la soluzione migliore. La soluzione migliore pare essere stata quella che abbiamo adottato e sarà stabile e quella che abbiamo concordato anche con tutti i commercianti per cui speriamo, anzi siamo certi che è la miglior soluzione che poteva essere adottata e credo che anche tutti i commercianti possano essere soddisfatti di questa sistemazione.